Un saluto a tutti da SnowKills e ben ritrovati in un nuovo video su Rainbow Six Siege Allora, oggi oltre alla solita ranked che volevo andare a fare E volevo prima andare a sbloccare un po' di operatori Allora, quelli che mi mancano Iniziando da questo, Castle Andiamo a sbloccare Poi abbiamo successivo gli Spetnaz Tachanka Come cazzo si chiama? Tachanka Tachanka, quindi vai Tachanka, conferma sblocco Successivo abbiamo GSG9 Jager Jager, vabbè, lui Lo andiamo a sbloccare, conferma sblocco Poi, poi altre due Io avevo visto Anche voi consigliati tantissimi Tra cui Ibana Però Ibana, ne sono sicuro Che non mi porta a molto per come gioco io Ne sono sicuro Altra storia invece Trovare un bel assalitore Mi piace Jekyll Mi piace molto E come difensore Valkyrie Queste telecamere Sono davvero fighe Quando ci sta Si possono identificare i nemici Quindi Era indeciso A dire la verità Nei difensori Tra Mira Perché da prenderli tutti e due Però mi piace tantissimo la telecamere Quindi Direi di prendere Jekyll Come assalitore Come assalitore E poi Intanto vediamo la dotazione Ancora 6.000 E altro operatore Avevamo detto Valkyrie Con le telecamere Quindi Andiamola a prendere Sapore pompata Quindi Fatto ciò Me ne rimangono pochi E direi di andare A fare appunto La ranked E non perdere Altro tempo Ultimamente Sono stato veramente Molto molto sfortunato Nel matchmaking Soprattutto Più che Per la Qualità dei compagni Per la quantità Infatti Mi è successo Due volte di fila Di andare a finire Con 4 Ma una di queste due volte Addirittura Siamo finiti In 3 contro 4 Cioè stavano abbandonando Tutti E stavano Una defezione totale Della partita E E quindi Sta girando un pochettino Male Vediamo un po' Di riuscirla a riprendere Di riaggiustarci Anche con questi nuovi operatori Che andremo appunto A testare adesso Ok Presidio Squadra 1 Attacco Al primo Andiamoci a prendere Jekyll Lo proviamo subito Con Irruzione O fumogena Facciamo fumogena Con questo Ovviamente Poi qua C'eravamo Piazzati Questo E vai Partono tutti quanti Qui E andiamo anche noi Ok Andiamo alla ricerca Del contenitore Prima volta Che uso questo Quest'operatore Quindi Non so Che cosa Aspettarmi Sinceramente Speriamo di cavarcela Ho visto soltanto Qualche volta Un paio Mi sono impantanato Nella cucina Visto un paio Di volte Replay Mentre mi ammazzavano Quindi Non so Neanche bene Come usarlo Però speriamo di capirlo Strada facendo Vediamo Oh 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 Lì C'è Abbiamo anche Riconosciuto Abbiamo anche Riconosciuto Eccola Eccola la bomba Dai Ridatemelo Fatemelo Nascondere Oh Cazzo No Mi stavo Per buttare Di sotto Vaffanculo Allora Vediamo un po' Che succede Se metto Quattro Identifico Cose Immagino Che questo Forse Non lo so Vede pure Attraverso Il fumo E quindi Ho fatto bene A prendermi La 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 granata Fumogena Sinceramente Non lo so Bello Questo mirino Mi piace Mi piace Questo mirino Triangolare Allora Che sta succedendo Qui Non vorrei Mi sparassero Da quel buco Ok Che ci sta Qui Scavalchiamo Sorry No problem Ok Allora Per di qua Che devo fare Vediamo un po' Chi c'è Qui Che vera Allora Dobbiamo andare Di l'amico Attenzione La tua posizione È stata compromessa Oh merda Ma dove vai Cave Ma dove vai Dove vai Mi vuoi accoltellare Ok Round vinto G G Perfetto Prima missione Attacco L'uscita Non sono riuscito A usare Per nulla Il potere Di questo eroe Ma vabbè Importante Aver coppato Quando bisognava Coppare Quindi Andiamo Di Valkyra A questo punto E testiamo Quest'altro Ci mettiamo Lo scudo Il bel mitraglione E go Ok Dobbiamo barricare Abbiamo tre telecamere Che possiamo mettere Se una è già lì Possiamo metterne Una Tipo La La Fichissima Vede tutto Eh mi piace Molto questo Mi piace molto Poi ne mettiamo Una Per esempio Dove la possiamo Mettere Una sta già Qui Quindi Quindi La voglio andare A mettere Vediamo un po' Qua Oh che cazzo Sta Succedendo Un'altra Qui Un'altra Qui Poi Una Qui Ok Boh Spero di averle piazzate Bene Dove sono Dove sono Dove si spara Oh non mi fa uccide Però Dove saranno Di qua Di là Chi muore Nessuno Non so se Scavalcare lì Posso risultare Un pochettino Pericolosiello Piazziamoci qui Vediamo un po' Le telecamere Se c'è qualcosa Oh qualcuno Ha sparato La mia telecamera Eccola lì Doppio Vedete che Fica Questa telecamera E' proprio Fica Stanno qui Ok Ok Bellissima Questa camera Ragazzi Oh no Mi hanno fottuto Però li sto Vorrei sparare Per un pelino Va bene Dai va bene Però spero Che Che il mio team Riesca a fotterla Questa Dai Mi ha preso bene Mi ha preso bene C'è questa Ma qui non c'è nulla Posto un po' random Anche se con un morto Quindi neanche troppo random Eccolo Eccolo E qui Ah mi hanno sparato La telecamera Fanculo Ok Round 2 vinto Perfetto Perfetto Adesso riproviamo Con Con l'altro operatore Sperando di trovare Qualche ormai Identificare qualcuno Cazzo Non so bene Intanto due round Vinti fa bene Al ranking Stiamo andando anche malissimo Uno dignitoso Riprendiamo lui Riproviamo Tutto quanto da capo Ok possiamo raggiungere Il contenitore Di bioloffio Speriamo bene Oh salgo qui Arrampico Perché qua bisogna andare su Bisogna andare su Bisogna andare Quindi ci andiamo Saremo sul tetto E' solo a 8 metri Sotto di noi Oh merda Che sta succedendo Qui Qui si stanno Sparando malamente Si stanno Sparando malamente 4 v3 Io volevo provare A fare irruzione E dall'alto Ma mi sa Che qui Non si conclude Un cazzo Scendiamo giù Non capisco A che cazzo serve Questa cosa E hanno eliminato Tutti quanti Non ho fatto niente Si sono arresi Cosa Cioè questa Non mi era mai successa Ragazzi Cioè vittoria Per resa Se se ne vanno in due Se danno resa Cioè questa È una cosa assurda Oppure perché Abbiamo vinto La terza volta E sinceramente Non mi era mai successo Quindi boh A posto L'importante È averla vinta E risalire Perfetto A bronzino 2 Cioè ce ne manca ancora Solo per tornare Da dove ero Partito Manga ancora tantissimo E quindi Si vede sicuramente Nei prossimi video Vediamo se becchiamo Questo 6% Prima di andarci A aprire quello Oddio Per pochissimo Ragazzi Per pochissimo E andiamo al 9 Ma usciamo E ho Qui da parte Un bell'alfa pack Che mi sono tenuto Per aprirlo qui Insieme a voi Allora Vediamo un po' Che cosa ci esce Ti prego Qualcosa di figo Per Qualcosa Che uso sempre Dai Puoi farcela Ma un fucile Però vaffanculo Per il fucile a pompa Che non uso mai Ti pareva Non dovevo Stare zitto Non dovevo Di niente E quindi ragazzi Per questo video È tutto Lasciate un bel like Se vi è piaciuto E un commento Fatemi sapere Che cosa ne pensate Degli eroi Che mi sono andato a prendere Se ho fatto bene Dovevo prendere Qualche altro eroi Al posto di quelli Anche se poi si sa Operatore Anche se poi si sa Che li andrò a sbloccare Tutti quanti Io vi saluto E ci vediamo Come sempre Nel prossimo video Ciao Ciao